Incredibile boato del Palafantossi per tentare di disturbare gli attacchi di Trento, Bettol riconquista palla, c'è un possesso a separare le due squadre, Bettol da tre punti, non va, ma c'è il rimbalzo di Trento con Conte, aveva preso un buon tiro dell'Orbettol, nonostante tutto. Sì ma Capodorlando adesso ci crede, adesso ha gli occhi della tigre Capodorlando. Forrai, palla schiacciata verso Garri, fa sentire il suo peso Poletti, e poi palla fuori per la conclusione da tre punti, e la mette anche Conte, primi tre punti per lui. Il canestro è amico dei giocatori di Trento in questa serata, soprattutto dalla distanza, Portannese, palla schiacciata verso George, 61-67, George sporcato il suo tiro, rimbalzo di Trento, 6-24 alla fine. Quella tripla, queste due triple di Trento, hanno davvero svoltato la partita probabilmente. No, ancora, ancora, devo dirti che secondo me la gara deve ancora accendersi. Palla per Conte, ancora da tre, ancora segno, tre triple di fila. No, no, no. E per Conte.